Ciao a tutti appassionati di anime manga, sono Alex, come sempre invito a seguirmi qui su YouTube oppure su Insta, il link trovate qui sotto in descrizione. Oggi ando a fare una recensione di Astro Boy, guardate questo bel cofanetto della Planet Manga, quindi io parlerò di questo, è uscito anche volume unico della G-Pop, è un bel cofanetto, costa 64,50 euro, 5 volumi, questo volume 1, guardate che bello, le prime pagine sono a colori, non so se si vede bene. Lo stile disegno ricorda molto Walt Disney, io nel leggerlo soprattutto i primi volumi sono rivisto molto, me bambino quando leggevo Topolino, Grimo Zama Tezuka soprattutto il primo, prende molto spunto dalla Walt Disney, ma lo dice anche, guardate qua, è palesemente Walt Disney. Diciamo che è uno shonen, però nonostante che è questo stile disegno che ricorda Walt Disney, quindi Topolino, è un po' più serio, cioè vedi anche gente che muore, non è che la vedi proprio però si capisce che muore. Quindi diciamo che è più maturo, anche se è uno shonen, diciamo che è stato forse, forse, il là dei manga, cioè quello che ha dato, non l'origine del manga, sicuramente l'origine degli anime di sicuro perché è stato il primo anime. Si è realizzato lo stesso Osama Tezuka, disegnato, realizzato lui, gli anime, ha fatto lui, quindi è famosissimo, è uno dei manga più venduti di tutta la storia, quindi bisogna comunque averlo. Poi le storie, diciamo che ci sono tante storie autoconclusive, esattamente come Topolino non c'è, una trama unica che segue, è una diverse storie, tipo queste qua nel A5, primo volume A5, però forse quelle più famose, che sono nel quinto volume, che è proprio, se vedere che questa, questo qua è Pluto, dice qualcosa il nome Pluto, diciamo che è il più grande robot dal mondo, il titolo di questa storia, che è una di quelle storie più lunghe, però mi è piaciuta, sta tanto, infatti da questa Urasawa ha tratto il suo Pluto, cioè Pluto nella rivisitazione di questa storia, che è il più grande robot dal mondo, infatti ho detto Pluto, ci sono Atom perché è Astro Boy, questo è un bambino robot, si chiama Atom in realtà, Tetsuan Atom, il nome originale, quindi se vi piace Pluto, vi piace Urasawa, dovete prendere per capire da dove derivi tutto, guardate però, nonostante questi disegni, mi piacciono, è retro però mi piace, forse perché leggevo Topolino da piccolo, però non potete non amare Usama Tezuka, è un maestro, non a caso il suo pre-dinominato il dio del manga, è davvero fantastico, quindi, parliamo di questo, questo bambino robot, cioè, è un robot, come è nato, cioè, uno scienziato robotico, aveva un figlio, questo figlio muore un incidente, e allora per ricordarlo, crea un robot, e su immagini di somiglianza, gli da vita, però per diverse peripezie, litigano tra loro due, perché i robot non possono mai fare del male agli umani, devono sempre fare del bene, però il suo padre non è proprio la stessa idea, e litigano, anche se più avanti, più avanti, si capisce che fanno pace alla fine, però comunque ve lo consiglio, è bellissimo, soprattutto, ripeto, l'ultima scuola storia lì, del robot più forte del mondo, è fantastica, la rileggeresti, infatti, è fatto brutto, ripeto, però comunque, mi è piaciuto tanto, Usama Tezuka, è da prendere sempre, e io ho il progetto di prendere, tutti, nei prossimi, tutti, i manga di Usama Tezuka, leggerli tutti, anche se Blackjack uscirà, nuova edizione della Jpop ad aprile, mi sa, quindi devo aspettare, una volta che l'avrò riuscito a leggere tutti, farò una classifica unica, solo su Usama Tezuka, dei miei preferiti, la mia top ten, però ci vorrà un bel po' di tempo, ora che li trovo, li recupero, li leggo tutti, perché, ripeto, Blackjack, a chi aspetto l'edizione nuova, che inizierà a prendere, ci vorrà un po' di tempo, io vi ringrazio, se vi è piaciuto il video, mettere un like, iscrivervi al canale, condividete il video, e ricordatevi di attivare la campanellina, ci vediamo al prossimo!